Chiamo sul palco Vittorio Curto, General Manager di Ganassini Healthcare. Benvenuto. Grazie, grazie mille per l'invito. Buongiorno a tutti. Sono molto felice di essere qua, di avere l'opportunità di parlare un po' di Istituto Ganassini. Come avete visto dal film, non siamo greenwashing, direi siamo quel silent green che diceva la dottoressa Suardi. Siamo un po' più lì. Perché siamo così? Ma probabilmente perché forse già una particolarità nostra è che più che essere un'azienda, prima di tutto siamo un istituto di ricerca. Si chiama Istituto Ganassini di ricerche biochimiche. E questo proprio perché il nostro fondatore, che ha fondato l'azienda nel 1935, era prima di tutto, prima di fare questa grande cosa della Ganassini, era innanzitutto un ricercatore, un professore di chimica all'Università di Pavia. e il suo lavoro era solo ricercare. Faceva ricerca e anche qui potremmo dire, a volte sembra quasi un piccolo romanzo la storia della Ganassini, potrebbe dire, vabbè ce ne sono tanti di ricercatori. E anche questo è vero, ma ad esempio non tutti sanno che sicuramente il dottor Ganassini, il professor Ganassini, fu in quel pool di ricercatori che ad esempio per primi isolarono e individuarono la vitamina B3, la niacina, che all'epoca veniva sempre di solito chiamata come vitamina PP, proprio perché era quella vitamina che è importante per la prevenzione della pellagra, che a quei tempi era proprio una problematica, una patologia molto molto diffusa. Ed è da questo che è nata la passione per la cura della pelle, quindi per la dermocosmetica, che ha portato poi alla nascita anche di tanti prodotti. e devo dire, tra questi studi che fece il fondatore, ce ne erano tanti sull'elasticità cutanea, perché era emerso da diversi test che più una pelle è elastica e più è tendenzialmente in uno stato di salute. E proprio per questo, quindi, ecco che rielastic non è un nome casuale di fantasia, ma significa proprio rielasticizzare. E devo dire che siamo arrivati oggi a questi 50 anni, siamo un po' più vecchi, a questi 50 anni, però in piena salute, devo dire. Perché siamo stati coerenti ai nostri valori delle origini, ma siamo tanto coerenti, ci sentiamo veramente tanto in linea con i valori che ho sentito qui esporre questa mattina. Esattamente. Devo dire che almeno da una decina d'anni, con l'avvento della quarta generazione della famiglia Garassini, con il quale ho avuto il privilegio di poter lavorare, di essere chiamato, abbiamo lavorato tanto in termini di sostenibilità. Ad esempio, la nostra responsabile della sostenibilità, la dottoressa Vittoria Garassini, che è qui presente, con lei abbiamo realizzato forse il primo lancio veramente sostenibile che è stato l'entrata nel mercato dei solari, che è stato fatto davvero tenendo sempre conto dell'utilizzo di packaging riciclati o riciclabili. E direi vado anche un po' oltre. Anche per i nostri bulk, ad esempio, abbiamo cercato di realizzare, non è sempre possibile, ma in tanti casi sì, anche dei bulk che sono assolutamente biodegradabili. Quindi tutto questo proprio per lasciare alle generazioni future la possibilità di fruire della bellezza di questo pianeta come l'abbiamo avuto noi oggi. Ecco, questo è un po' quello che stiamo facendo. Quindi è un piacere per noi consegnarle il nostro riconoscimento da parte di Polio della Cosmesi per questi 50 anni. Grazie. Ecco. Grazie mille. Complimenti. Facciamo una foto di rito. Grazie mille. Grazie ancora. Grazie ancora. Arrivederci. Arrivederci.